La Teramo Calcio sospende la posizione del direttore sportivo Marcello Di Giuseppe. La decisione, maturata la scorsa settimana dopo la notifica di chiusura delle indagini da parte della Procura Federale e che era trapelata tra sabato sera e domenica, è stata ufficializzata nelle prime ore del pomeriggio da uno scarno comunicato. Posizione congelata dunque e non risoluzione del contratto. Marcello Di Giuseppe resta un dirigente stipendiato dal Teramo anche a seguito del rinnovo contrattuale firmato ai primi di giugno per tre anni, ma non potrà operare per conto della società, sul mercato e non, verosimilmente finché non ci saranno ulteriori sviluppi sull'inchiesta per la presunta combin di Savona Teramo. Una volta giunti i deferimenti, il DS dovrà rispondere di illecito sportivo ed il suo nome appare più volte nell'informativa della mobile di Catanzaro a seguito delle varie intercettazioni dei colloqui telefonici con l'ex dirigente aquilano, Ercole Di Nicola. Una mossa pensata in società in vista del procedimento sportivo per smarcarsi da eventuali responsabilità che dovessero emergere a carico del direttore sportivo che resta comunque figura cardine dell'ascesa del Teramo di questi quattro anni. Sul comportamento di Di Giuseppe pende la responsabilità oggettiva del club che sarebbe male minore rispetto a quella diretta che ricade invece sulla testa del presidente Luciano Campitelli. Intanto filtrano dettagli sulle dichiarazioni fatte mettere a verbale nell'audizione dello scorso 9 luglio da Ninni Corda, ex allenatore di Savona e Barletta, indagato dalla procura di Catanzaro per Savona-Teramo. Corda ha dichiarato agli uomini della procura federale di aver incontrato Di Giuseppe e Di Nicola a cena a Bisceglie il 29 aprile e dai due dirigenti ha appreso che il Teramo sarebbe stato disposto a mettere sul piatto 70.000 euro per combinare la partita e una parte di tale cifra l'avrebbe potuta gestire lui per ripartirla con i giocatori che il tecnico avrebbe contattato. Ma Corda ha rifiutato di prestarsi ad alterare la partita. Tra fine maggio e inizio giugno Corda ha poi incontrato alla Spezia l'ex consulente savonese Barghigiani e quest'ultimo tra le altre cose ha riferito a che la combine era andata a buon fine e che una parte dei soldi era finita nelle tasche del presidente dei Liguri delle piane. Un passaggio questo funzionale alla contestazione della responsabilità diretta per l'ex patron del Savona. Giova peraltro ricordare come i rapporti tra corde e delle piane siano tesi. L'ex tecnico diceva di vantare crediti dal patron savonese delle piane a sua volta con un esposto alla procura federale fece scattare l'inchiesta a carico di Corda per il lecito sportivo in riferimento alla partita Savona-Spal dello scorso 6 settembre. Corda è stato condannato in primo grado a tre anni, qualifica ridotta in secondo grado ad un solo anno. Lo scorso 16 luglio, proprio una settimana dopo la suddetta audizione. In quella sede l'allenatore Sardo ha peraltro affermato di non aver mai incontrato e visto né di conoscere il patron terramano Campitelli. Un altro piccolo assist involontario al Teramo lo ha fornito l'ex consulente Enrico Cenicola nell'audizione del 15 luglio. Cenicola ha dichiarato che il 2 maggio, prima della partita, era con l'altro ex consulente Barghigiani. Fermatisi ad un bar nei pressi dello svincolo autostradale di Albissola, Cenicola ha riferito che da un SUV è sceso il DS Di Giuseppe. Su quel SUV c'erano altre persone che non sono scese e non hanno avuto contatti con Barghigiani. Dopo la gara, l'incontro Barghigiani-Di Giuseppe è stato replicato nel medesimo posto. In questo caso Cenicola, rimasto a 20 metri di distanza, non ricorda il modello di auto da dove è sceso il DS Terramano, né se vi fossero altre persone. Sempre il 15 luglio, in audizione, il difensore Fabio Eguelfi ha dichiarato che nella sua militanza di 5 mesi a Savona ha visto qualche volta in tribuna Barghigiani, ma mai negli spogliatoi o durante gli allenamenti, e comunque era odiato dai compagni, specie i senatori. Il nome di Barghigiani era sempre accompagnato da un epiteto denigratorio. Grazie a tutti.